Ciao a tutti, benvenuti su TechGaming e in questo video vedremo il nuovo centro servizi in Animal Crossing New Horizon, che è questo. Praticamente questo centro servizi lo otterrete giocando, inizialmente è una tenda, ma con il progredire del gioco vi ritroverete in questa condizione. Praticamente Tom Nock chiuderà il centro servizi per un giorno o due, circa, non ricordo bene quanti giorni, ma se non vado errato uno, per costruire questo nuovo centro servizi. E adesso vi mostrerò il suo interno. Come potete vedere è diventato un vero e proprio edificio, non è più una tenda, ed ospita un nuovo personaggio. E la struttura è differente. Qui abbiamo sempre il terminale della Nock dove fare le nostre operazioni, qui abbiamo sempre la cassetta dove ci sono degli oggetti, mentre qui abbiamo una situazione differente. Se parliamo con Tom Nock, possiamo svolgere diverse azioni che vi mostro adesso. Potete sapere cosa dovete fare, avviare la cerimonia per la costruzione di un qualcosa, espandere la vostra abitazione o spostarvi da qualche altra parte, e costruire nuove infrastrutture, tra cui ponti e rampe, o spostare un edificio allo stato attuale. Ora non so se in futuro potremo costruire edifici differenti, però per ora la situazione è questa. Mentre se parliamo di qua, con Fuffi, potete cambiare l'inno della vostra isola, se siete musicisti potete divertirvi a creare l'inno che volete. Potete cambiare la bandiera, quindi selezionando cambi a bandiera avete la possibilità di scegliere un design. E se avete seguito il mio tutorial sapete come importare il design dal computer, quindi se avete un'immagine che volete utilizzare potete farlo. Oppure parlare di un abitante, quindi diciamo segnalare eventuali problemi con un abitante. Quindi lui ci sta chiedendo a questo punto, o meglio lei, non ho mai capito se è maschio o femmina, però penso lei, quest'isola deve essere un posto accogliente per tutti, allora hai bisogno del mio aiuto e qui potete ovviamente chiedere il suo aiuto per risolvere magari una disputa. Questo per quanto riguarda il nuovo centro servizi, poi qui ovviamente avete la possibilità come sempre di scambiare le miglia per degli articoli, utilizzare il catalogo NOC per fare acquisti con le stelline, oppure ricorrere allo stello MAT per prelevare, depositare o pagare i vostri debiti. Quindi potete prelevare, diciamo, contanti, depositarli o pagare i vostri debiti. Quindi, ricapitolando, questo nuovo centro servizi sarà attivo non appena proseguirete con il gioco. Quindi inizialmente sarà una tenda, successivamente diventerà il nuovo centro servizi. Se questo video vi è servito o vi è piaciuto cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.